Quando quelli come Pietro Mennea danno l'addio, stride parlare di morte. Nella memoria continui a vederli con gli occhi di ragazzo correre contro il vento e contro il tempo. E Pietro Mennea, il privilegio dell'immortalità, se lo è conquistato con le sue gambe e la sua tenacia. È l'atleta italiano più conosciuto nel mondo, la Freccia del Sud, così veniva chiamato per la velocità di punta che riusciva a toccare. 20 anni da protagonista assoluto, 5 Olimpiadi, 2 primati mondiali, 8 europei. Uno, quello ottenuto nel 1979 a Città del Messico, quando da studente di scienze politiche partecipò alle universiadi, è rimasto imbattuto per quasi 17 anni. 19,72 sui 200 metri piani, tuttora record europeo. Certo fu stabilito ad oltre 2.000 metri di quota, ma solo nel 1996 Michael Johnson riuscì a batterlo. A batterlo ma non a cancellarlo, perché 19,72 rimane il manifesto sportivo di una generazione. Nel passaggio epocale tra le paure e i fermenti degli anni settanta e le promesse del nuovo decennio, le vittorie di Pietro Mennea erano come i gol della nazionale, da seguire aggrappati allo sgabello di un bar, le sue incredibili rimonte quasi la metafora di un paese che stava cambiando pelle. Tra i favoriti a Mosca, anche a causa del boicottaggio statunitense delle Olimpiadi del 1980, nella finale dei 200 metri sembrava impotente contro il campione dei 100, Alan Wells, ma dopo una brutta partenza sull'erettilineo, Mennea lo sopravanzò negli ultimi metri, aggiudicandosi l'oro per due centesimi di secondo. Classe 52, a 15 anni per le strade di Berletta, giocava a sfidare una Porsche o un'Alfa fiammante battendole sui 50 metri. Il premio, 500 lire, da spendere per il cinema. Quattro lauree, tra cui scienze politiche e giurisprudenza, che lo hanno accompagnato nella sua esperienza da eurodeputato a Bruxelles dal 99 al 2004. Si è battuto con forza contro la piaga del doping e si è sempre occupato degli altri, attraverso la sua onlus. Tre anni fa si è impegnato schierandosi a difesa dei risparmiatori italiani finiti nel crack dell'Allemann Brother. Londra, in occasione delle recenti Olimpiadi, gli ha dedicato una stazione della metropolitana. Adesso restano i ricordi delle incredibili rimonte del ragazzo di Berletta e il suo ultimo messaggio ai giovani. Se potessi tornare indietro, invece di 5 ore al giorno, mi allenerei 8 ore al giorno. E anche di più, perché quello è il segreto. La superficialità non porta da nessuna parte. Chi lavora, prima o poi, porta a casa qualcosa, raccoglie qualcosa.